Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come spegnere così un computer automaticamente quindi in questo caso se hai intenzione di impostare così un timer al tuo computer per farlo spegnere automaticamente mentre sta facendo qualcosa e tu stai fuori casa e poi sai già che quella cosa che stai facendo finisce subito e quindi il pc poi si spegne da solo puoi farlo direttamente schiacciando il tasto windows questo qua il tasto start che vedi sulla tastiera più r di roma ed eccolo qua oppure puoi direttamente scrivere esegui e si avviva la schedina esegui quindi come funziona? tu vai a scrivere shutdown spazio trattino s spazio trattino t spazio imposti così i secondi i secondi come puoi vedere se io adesso metto 3600 secondi che sono un'ora tra un'ora il computer si spegne se invece vuoi farlo tra due ore metti 7200 e così facendo 3 ore 4 ore 5 ore e basta quindi imposto così i secondi 3600 e faccio ok ed eccolo qua è partito così un timer e tra un'ora 17 e 52 18 e 52 il computer si arresterà da solo quindi per quelli che non sapevano questo trucchetto di impostare un timer che il pc si spegne automaticamente adesso lo sai quindi se invece non vuoi togliere così quel timer clicca qua sopra e fai arresta il sistema lo spegne e basta quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao